Ciao a tutti! Qual è il tuo oroscopo Paolo Fox per oggi venerdì 5 novembre 2021? Sei curioso del tuo oroscopo? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per oggi? Oroscopo vergine. Sereni ovunque, in casa e fuori. Se il tempo migliora e nel vostro territorio splende addirittura il sole, stasera non abbioccatevi in casa, a meno che non abbiate ospiti o vi piaccia sfoggiare la vostra abilità ai fornelli. Ma come, non ne avete ancora abbastanza di lavorare? Dopo otto ore massacranti dovreste solo aspirare al riposo. Per vostra fortuna l'aspetto e la socievolezza restano intatti, come se vi foste appena alzati dal letto, ma un medico esperto, guardandovi negli occhi vi direbbe, e l'astrologo gli darebbe ragione, che avete i nervi a pezzi e una vitalità in caduta libera. Cosa ribadita anche dallo specchio, a venere in quadratura non piacete, come del resto lei non piace a voi e lo stesso vale per il cupo Saturno in sesta casa, che vi fa sentire con l'energia sotto i tacchi, urge una cura vitaminica e una corsa quotidiana al parco. Qualcosa o qualcuno a voi caro ora non c'è più, vi siete separati da qualcosa o qualcuno a cui tenetevate particolarmente. Per questo avete sofferto tantissimo e soffrirete ancora. Per il futuro, si annunciano perdite affettive con incapacità a uscire fuori da evidenti situazioni di sofferenza. Avvertite un senso di sconfitta, di dolore, di prostrazione che vi fanno soffrire. Qualcuno ti restituirà dei soldi che ti doveva. 4. Guadagni extra o regali in arrivo. Dubbi. Incertezze. Tancro e sagittario ti saranno di grande aiuto. Se avete in ballo questioni di eredità, rivolgetevi a un buon avvocato e risolvete ogni dubbio prima di firmare documenti importanti. Se il vostro problema è lavoro rivolgetevi a un buon consulente che saprà consigliarvi per il meglio. Evita la pigrizia. Se desideri qualcosa, datti da fare con più grinta e non scartare nessuna ipotesi per ottenerlo. Oggi fate in modo da chiudere un occhio su qualche situazione che potrebbe presentarsi a causa di persone che non hanno a cuore la vostra persona. Siate diplomatici. Se state cercando qualcosa tra vecchie e-mail o vecchi messaggi ricordate che l'importante è trovare quelli giusti e non perdersi nel mare dei ricordi. Oggi è possibile che vi sentiate particolarmente stanchi e per questo potreste decidervi di prendervi qualche giorno di riposo. Ma è giusta allora di rimboccarsi le maniche e fare molto di più. Avrete contatti con persone straniere, o sacerdoti, o guide turistiche, curate le pubbliche relazioni, socializzate di più e, soprattutto, cercate di uscire di più. Giornata all'insegna del miglioramento dell'umore. La luna che fin qui si opponeva ora lascia il campo e vi sentirete liberi e vitali. Rendetevi conto che una situazione non può andare più avanti in un certo modo, siete chiamati a una decisione drastica e decisa. Fate la cosa giusta. Oraganizzate qualcosa di speciale per il partner, poiché lo merita. In questa giornata segnerete un punto a vostro favore in una vostra relazione, sia di amicizia, che di amore. Soprattutto se avete un lavoro che vi dà molte soddisfazioni, mollare in questo frangente sarebbe quasi una mossa da stupidi, quindi fareste meglio a recuperare le ultime forze, dandovi da fare almeno. Nel lavoro non tarderanno risultati soddisfacenti. Quadro dei transiti planetari molto positivo e fortunato, grazie a Plutone benefico nel Capricorno, specie se siete nati nella terza decade e se le vostre occupazioni, gli interessi specifici si rivolgono alla famiglia. Quali sono i difetti del vostro segno in base alla collocazione dei pianeti? Mercurio in dominio principale individua la famosa ipercritica che tendete a manifestare per ogni situazione e in ogni circostanza vi troviate. Urano, pianeta che il vostro segno celebra, può denunciare un'eccessiva passione per la tecnica, per una visione troppo meccanica della vita che può escludere la fantasia e gli slanci emotivi. Un'altrettanto eccessiva proiezione verso il presente da parte vostra può non offrire una visione complessiva dall'oggi, quella che tenga conto del passato con i suoi indispensabili punti di partenza, attenzione a non trascurare questi lati fondamentali dell'esistenza umana, così essenziali per trovare una completezza, un equilibrio intimo, una visione chiara degli eventi. Giornata positiva, la luna è dalla vostra parte. I sentimenti sono al top. Per quanto riguarda il lavoro, Marte è favorevole, per cui potete risolvere un problema di lungo corso che vi attanaglia. Ti senti un po' ansioso perché hai l'impressione che qualcuno non sia del tutto sincero con te. Un po' come se conoscessi intimamente un amico e che tutto ad un tratto notassi dei dettagli che non si addicono minimamente al personaggio. Non sai più se credere a quello che hai visto di recente o a quello che sapevi già da prima. Avete optato per il silenzio in alcuni ambiti della vostra vita, li avete quasi fatti sparire, non vi siete più dedicati a cose o persone. Avete deciso così e tagliato fuori una gran parte di quello che vi faceva stare bene. Cosa ne avete ottenuto in cambio? Non sempre si può evitare quel che ci rinvigorisce, semplicemente perché si diventa in un attimo la versione peggiore di se stessi. Riappropriatevi dei vostri spazi e di alcuni rapporti in modo particolare. Saturno in sesta casa, la staccano a vista, parla di problemini di lavoro e magari anche di salute, mal di schiena, stanchezza, pressione bassa e problemi più comuni. Attenzione ai viaggi, risolti brillantemente per studio o per lavoro, un po' meno quelli di piacere, con la luna nuova, il sole e Marte che vi solleticano con un sestire ma strada facendo riesco a farvi incontrare qualcuno che vi fa arrabbiare forte. Magari il solito guidatore pazzo che vi taglia la strada o magari vi sorpassa a destra. Roba da farvi accapponare la pelle. Amore ed eros. Due punti Oggi vi piacerebbe fare micio micio tra le braccia del partner, fare colazione a letto e leggere lo stesso giornale o preparare un dolce insieme ai pupi. Invece vi tocca alzarvi e affrontare questo giovedì di lavoro. Meglio non pensarci, dopo domani vi aspetta il weekend. Faccia a faccia con una persona del passato e invece no, il cuore batte ancora, e che ne direste di rilanciare? Anche se il settore sentimentale non fila secondo i vostri desiderata, il consiglio delle stelle è quello di tener duro e proseguire senza dare importanza a piccoli imprevisti che si riveleranno insignificanti. L'amore non è solo passione e eros, attenzione a coltivare la parte emotiva, ingrediente fondamentale del rapporto, in particolare se siete uomini. Venere sagittario Oggi non vi è mica. Lavoro e denaro. Due punti Buona giornata ma solo per chi osa e non si lascia blindare o impaurire da eventi contrari. Colleghi ammutolitti per una notizia non bella sul fronte aziendale, ma se siete sicuri delle vostre ragioni perché non indire proteste? L'unione fa la forza, e la storia è piena di esempi che l'hanno avuta vinta. Non lasciatevi abbattere, almeno provateci. Tempi duri invece per chi il lavoro l'ha perso o non ce l'ha, peggio ancora sperava di andare in pensione e invece nisba. Tutto rinviato all'anno prossimo, o forse chissà quando. Giornata di routine, senza grandi slanci. Sempre le solite facce, le solite mansioni, la solita noia. Per fortuna i colleghi sono simpatici e svolgendo il vostro lavoro riuscite a farvi qualche risata. Efficienti e garbati, riuscite a conquistare spazi d'azione in ufficio, quelli che vi serviranno per guadagnarvi avanzamenti futuri. Urano e Marte spalleggiano le vostre iniziative. Benessere. Due punti Ottima la vostra cucina, anzi paradisiaca, ma se avete esagerato con i condimenti o associato alimenti sbagliati un po' di peso allo stomaco non ve lo leva nessuno. Gli antidoti, una bella passeggiata di buon passo, purché coperti a sufficienza, anche l'apparato respiratorio oggi risulta più debole del consueto. Importante anche il controllo delle emozioni, per quanto dolci la pancia, il vostro punto debole, lo sente comunque e non vi risparmia i suoi commenti. Resta in sintonia con il tuo corpo, poiché potresti sperimentare una fame insolita o desiderare qualche gusto o spezia inusuale. Segui il tuo istinto e gratifica te stesso, esplora il nuovo. Inoltre, prova ad andare a letto presto stasera. Per lei, divertente frequentare il mercato di quartiere per fare incetta di buoni formaggi e verdure fresche. La vostra passione sono i banchi del vestiario, dove frugate con spirito da ricercatrice e brandite i vostri trofei con aria vittoriosa, inaudito, un cacchemire a 10 euro. Per lui, cuochi provetti intenti alla preparazione di una cena pantagruelica, stasera si festeggia un compleanno in famiglia, ma onde evitare le solite irritanti discussioni avvisate i vostri ospiti per tempo, chi si becca laverà i piatti. Colore delle emozioni, aragosta. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.